Com'era sul lavoro Berlusconi con gli artisti? Era molto esigente? E' un passaggio delicato quello da Rai ai canali di Berlusconi. Come è andata quella volta? Siamo passando solo un attimo perché non trovavano le stesse cose, ma non aveva dato un malattico che lo stavano a domandare, ma non era cercato, perché non era adesso, e non ho colato, perché lo trovavano di un grande difficoltà. Però ho sottolineato la sua presenza e che loro stavano stessi di parlare del cittadino, distrutti, ma quando noi venivano stessi di parlare, ci complimentavano tutti quanti e ci ritiravano tutti quanti. Berlusconi, uomo politico, imprenditore. Per un artista qual era il migliore dei tre? Sì Quando è stata la prima volta che vi siete incontrati anche fuori dall'ambiente di lavoro? No, siete incontrati? Siete incontrati? Siete incontrati? Siete incontrati? Mi intituti? Mi intituto? Siete incontrati? Mi intituto? un'altra domanda era la sua, mi ricordo che quando avevo fatto testa era stato un grande successo e quella che avevo fatto tutto dall'alto e è quello che lui è arrivato il giorno dopo a tutti i cibi, oggi per tutti, felice, perché aveva vinto la sua personale in partaia. Ma è vero che lui diceva all'artista la cifra mettila tu, io sono solo contento che vieni a lavorare con noi. Fuori dagli ambienti di lavoro avete mai cenato insieme, siete stati insieme con amici? Oggi guardando Berlusconi quello che ha fatto e quello che rappresenta per l'Italia, qual è il tuo pensiero? Ci sarà mai un altro imprenditore che ha questo cuore così grande per lo spettacolo, per il calcio. Un tuo saluto personale se dovessi dirgli l'ultima volta di un incontro con lui, quale potrebbe essere una tua frase di commiato a lui? mi ricordo quando noi ci siamo lasciati e ci sono stati all'alto del incontro, io sono stato lì e tu lì, mi hai detto che tutto non la vuoi preparare la pena, non c'è un'altra vista del contratto, poi ho detto a dire, quando pensai mi dicevi, posso non c'è un'altra vista del pubblico che si può essere? grazie tante pippo grazie infinite tutto registrato a peggio a presto un abbraccio ciao ciao